Il commissario della Sanità del Molise Angelo Giustini che al tavolo tecnico il 29 dicembre minacciò le dimissioni perché i ministeri richiedevano la revoca dell'accreditamento ai privati è legittimamente in carica. Sembra la novità delle ultime ore, in realtà è sempre stato così. La sua decisione è mai formalizzata per iscritto, tuttavia attende un chiarimento con Roma. Su questo il generale è ancora fermo. Intanto è rientrato a Campobasso e lo aveva dichiarato lunedì, torno mi prendo due giorni per capire cosa è accaduto al Cardarelli. Si riferiva agli oltre 30 contagi individuati fra operatori sanitari e pazienti dei reparti di chirurgia e medicina. Così si è recato di persona a effettuare un sopralluogo nell'ospedale regionale che è hub per il covid e hub per le malattie e tempo dipendenti. Accompagnato dal primario di chirurgia Giuseppe Cecere, al termine nell'atrio, ha trovato i giornalisti la sua visita. Non era passata inosservata. La situazione è che purtroppo, per quanto senza puntare il dito contro nessuno, sono ammirevoli tutti gli sforzi da qualunque parte essi provengano, la commistione c'è. Perché ho visto assieme qui al professore, che è stato gentilissimo, il professor Cecere, che mi ha fatto vedere con i miei occhi dove sono i crocivia. Cioè dove ci sarebbe potenzialmente, ma realmente lo è oggettivale, la commistione tra le terapie intensive e il reparto malattie infettive. Le sale operatorie dove sono separate da un pertugio, dove poi, che separazione, è un compensato, dove sopra c'è un volano d'aria, per cui dove sta la separazione? Tra terapie intensive, scusa, tra sale operatorie dedicate al covid e quelle non covid e altro. Questo secondo lei non garantisce che i percorsi non si incrociano, non garantisce dal rischio di infezione in questo ospedale? No, potenzialmente no. Cosa pensa di fare adesso? Ma niente, la cosa che c'è da fare è rispettare la legge. Roma ha detto alla protezione civile che è stato validato l'ospital covid qui del Cardarelli. L'ospital centro di Larino, che sarebbe stato l'ideale, purtroppo è un no, perché l'ufficialità sta dall'altra parte. Però, visto i tempi, le lungaggini per realizzare questo Cardarelli covid, c'è sempre Larino dove io dico, oggi e per sempre, dedicato a questo, chiamiamo covid, ma di malattie infettive, sarebbe l'ideale. E si può sempre organizzare. Ma non da solo, collegialmente, è chiaro? Una relazione al Ministero sul sopralluogo di stamattina? Questa mattina sì.